Buona domenica ragazzi, oggi c'è un caldo che sembra di stare, non so, ai tropici Fa veramente troppo caldo Comunque vi volevo dare un annuncio che stasera farò una live Non so bene a che ora, però poi ve lo dico Perché c'è una persona veramente senza coerenza E già da queste parole senza, dovreste capire Che veramente è vergognosa, si permette di parlare Cioè, no, non mi sta bene Che questa sciacalla si sia permessa di dire beh Quando non c'entra proprio niente nel discorso Quindi è una vera vergogna Una vera vergogna quando questi canali di scolo cercano di tornare alla ribalta Non credo proprio Comunque buona domenica ragazzi E' nulla Noi stiamo facendo tante cosine Vedete un po' buio In realtà non è che buio Perché essendoci giù tutta la capparella C'è anche già abbastanza luce Perché sono entrati troppo sole C'è un caldo Veramente che non lo so Tipo 40 gradi Una cosa anomala Comunque vi aspetto a stasera in live Ciao Ciao